Intervenuta ieri sera a replay il legale del Pescara, l'avvocato Flavia Tortorella, ha parlato della vicenda Plus Valenze che si è conclusa alla fine del giudizio di primo grado con il proscioglimento di tutti i club deferiti, tra cui quello biancazzurro, e i dirigenti coinvolti e dunque per il Pescara il presidente Daniele Sebastiani, il vice Gabriele Bancoschi e il consigliere d'amministrazione Roberto Druda. Un risultato che per l'avvocato acquisisce ancora più peso specifico poiché nelle motivazioni della sentenza i giudici del TFN hanno citato una prova portata proprio dal legale della del Pescara circa la valutazione sul sito Transfer Market dell'ex attaccante Gianluca Caprari. Effettivamente è una sentenza particolarmente sintetica e quindi trovare uno stralcio della difesa spesa dal Pescara sicuramente fa piacere. Più che altro abbiamo cercato di dimostrare attraverso una prova documentale che comunque il sito Transfer Market fosse quantomeno inattendibile sotto il profilo della valutazione secca delle prestazioni dei calciatori professionisti. Pubblicate le motivazioni lo scorso 22 aprile, da allora decorre il termine di 15 giorni entro cui la parte interessata, la Procura federale, può fare ricorso in appello. Un secondo round davanti alla Corte federale non è dunque da escludere. L'avvocato spiega poi perché al Pescara a febbraio, con l'atto di chiusura delle indagini, era stato contestato anche il più temuto comma 2, mentre poi nel deferimento il club ha dovuto rispondere solo del comma 1. Abbiamo fatto presente alla Procura che c'era stato un errore in ordine ad un calcolo contabile per cui l'errore aveva determinato un patrimonio netto inferiore al valore necessario per l'iscrizione al campionato. corretto quell'errore, invece la Delfino Pescara aveva un patrimonio assolutamente in linea con i criteri per l'iscrizione al campionato. L'avvocato Tortorella non nega la preoccupazione che c'era per questo procedimento sportivo, quasi temendo una sorta di sentenza politica. Sì, ho avuto il timore che questo processo potesse essere, come dire, un esempio per tanti altri e quindi in qualche modo potesse fungere da apripista per uno scoraggiamento all'utilizzo di plusvalenze fittizie. Tuttavia la politica... Quando ha capito che non era così? Quando ho ascoltato il Presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio che in qualche modo ha sposato il principio per cui non si può sottoporre a procedimento disciplinare delle società e dei consiglieri di amministrazione in un momento in cui non c'è ancora una notazione federale. Quindi quella dichiarazione di Gravina gli ha un po' aiutato, no? Beh, mi ha molto rassicurata. Grazie a tutti.